ciao a tutti eccoci qua siamo alle prese con le prove per c'era una volta un baule che vi stiamo per portare a turrita al teatro degli oscuri e ecco qua il nostro baule fantastico solo che a chiusa non possiamo farvi sapere che cosa c'è dentro dobbiamo tirare fuori un sacco di fantasia venite ad aiutarci il 31 marzo e l'1 aprile al teatro degli oscuri di turrita vi aspettiamo ciao ciao ciao